ragazzi buonasera eccomi qui è lunedì 19 26 quindi a ridosso ormai della chiusura vi dico che oggi abbiamo avuto uno scarico che mi sono arrivato un sacco di cose allora ho appena finito di sistemare tutti quanti riassortimenti e per quanto riguarda i riassortimenti la cosa che mi viene in mente velocissima da dirvi che mi sono ritornati di nuovo disponibili loro che le avevamo scaricati praticamente sabato mattina ve li ho fatti vedere e già sold out di nuovo disponibili ginsa semi elasticizzato a partire dalla taglia 38 fino a una 46 questa volta quindi una taglietta e meno 46 che vestono 48 vediamo comunque ragazze ci sono ritornati di nuovo disponibili i jeans con lo strass il modello e quella zampa dietro sono lisci vestono piacciono tantissimo anche a me piacciono da impazzire infatti ti ho chieste anch'io li voglio li voglio mandatemi dal magazzino comunque quelli mi sono ritornati di nuovo disponibili mi sono ritornate di nuovo disponibili le maglie in maglina di viscosa con il colletto il raso effetto camicia ragazze di nuovo disponibili nella colorazione bianca ma che ve lo devo dire oggi me la sono messa ho finito tutti gli altri colori ma già li sto rimandando in ordine quindi bianche che mi sono ritornate oggi pomeriggio ci sono nera è finita marrone è finita ragazze insomma tutti gli altri colori stanno in ordine taglia unica maglina di miscosa per quanto riguarda per quanto riguarda la parte del busto anzi ve la faccio vedere così con la scusa vi faccio vedere pure il look of the day lunghezza giusta perché mi copre il passante del pantalone mi copre anche la tasca la vestibilità incredibile perché come potete ben vedere rimane è morbida e quindi veste perfetto tutte le taglie anche a chi ha il seno grande sta perfetta ragazze e poi grazie a questo collo aspetta un giro la fotocamera grazie a questo collo anche messa sotto un cardigan sembra una camicetta ma in realtà avete la praticità della maglina quindi questa nera la sto rimandando in ordine gli altri colori li sto rimandando in ordine bianca ancora c'è disponibile come c'è disponibile il cardigan che sto indossando che ci ha ritornato di nuovo in tutte le colorazioni dopo ve lo faccio vedere ragazzi perché io intanto velocissima ma domani li scopriamo insieme bene bene perché il maglioncino quello strascia non strassato quello col filo la me che abbiamo disponibile che mi è ritornato di nuovo disponibile il modello è quello con lo scolla v che rimane morbidino con gli spacchetti laterali che ci piace da impazzire ragazzi perché abbiamo disponibile nella colorazione latte ce l'abbiamo disponibile nella colorazione marrone guarda com'è bello col filo di la me lo scolla v e veste anche questo benissimo perché rimane morbido ed è perfetto per esempio da coordinare come abbiamo fatto con francesca con una di queste borosette che sto indossando io insomma questo ci è ritornato di nuovo disponibile già l'avevamo visto sabato ragazzi mi è arrivata la versione un pochino più sagomata che è perfetta da mettere anche come sotto giacca delizia in una marea di colori ma poi vi devo dire che mi sono arrivati anche dei gilet che sono caldissimi ma domani ve li faccio vedere che mi sono arrivati guarda quanto è bello il maglioncino di mohair sassice morbido con la manica arricciata ampio questo pure su un pantalone o su una con e fermati mi sono arrivate delle gonne strepitose quali loro gonne in ecopelle lunga solo la conne in ecopelle anche i pantaloni e palazzo in ecopelle con l'elastico in vita che vanno purata cioè ragazze mi è arrivata una marea di roba non figa finissima ne vogliamo parlare di loro le camicie in cotone bianca e nera tutta tempestata dei brillocchi ragazze il maglioncino in mohair guarda che bello questo verde tutto traforatino nella parte di sotto il modello che rimane corto e poi a grande richiesta i pantaloni di velluto ma ve li faccio vedere domani intanto vi dico e dico pur a jessica che me l'aveva chiesto che la maglia quella con l'effetto tridimensionale nido d'ape che mi sono presa io nella versione latte e che è comodissima e che morbida che rimane leggermente svasatina che ha la manica lunga giro collo e che la mettete soprattutto ma vi riveste tantissimo e soprattutto ha un tessuto strepitoso blu grigia nera e latte taglia unica e veste benissimo allora ragazze io ho tutta quella roba da farvi vedere ma ormai domani mattina perché sono le 19 e 45 e il punto vendita è ufficialmente chiuso instagram facebook youtube e tik tok se non puoi perdere nessuno degli articoli che stiamo scaricando e visti nelle storie e visti come video spoiler sul canale di youtube e visti pure come foto perché ve le posso pure passata la mosca vabbè e ve le posso pure come foto comunque domani mattina io sono qui che vi aspetto a partire dalle 9 e 30 fino alle 13 30 poi dalle 16 alle 19 e 30 ginsa ve l'ho detto che mi sono ritornati come sempre fatto vedere al volo un po tutto comunque molte penso vedo qualcosa devo segnarmi gli articoli nuovi domani li scopriamo insieme rgn la faccia domani ciao 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 Grazie a tutti